Io tengo un brutto carattere perché mi arrabbio sempre, ma siete voi che mi fate arrabbiare Guagliarù? Siete voi che mi fate arrabbiare? Mi avete chiesto il permesso per uscire prima e ve l'ho dato. Mi avete chiesto il permesso che se casomai fate tardi non vi devo dire niente, non vi devo mortificare avanti agli altri colleghi perché avete i capelli bianchi. Ma questo è un affaccio, non vi siete accorti di niente Guagliarù? Non vi siete accorti di niente? Ve lo siete addunati che non riuscite a scarpopera, arroiate scappense. In tribunale? In tribunale. Eh, sono stato convocato per una denuncia a piede libero. Ma io non ho! Comandi!